Ascoltatemi, amici romani, concittadini, io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che l'uomo fa vive oltre di lui, il bene sovente rimane sepolto con le sue ossa, e sia così di Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso, grave colpa se ciò fosse vero, e Cesare con grave pena l'avrebbe scontato. Ora io, con il consenso di Bruto e degli altri, poiché Bruto è uomo d'onore, e anche gli altri, tutti, tutti uomini d'onore, io vengo a parlarvi di Cesare morto. Era mio amico, fedele, giusto con me, anche se Bruto afferma che gli era ambizioso, e Bruto è uomo d'onore. Sì, è vero, sul pianto dei miseri Cesare lacrimava, un ambizioso dovrebbe avere scorza più dura di questa, e tuttavia sostiene Bruto che gli era ambizioso, e Bruto è uomo d'onore. Sì, è anche vero che tutti voi mi avete visto alle feste dei Lupercali, tre volte offrire a Cesare la corona di re, Cesare tre volte rifiutarla, era ambizione la sua, e tuttavia è Bruto ad affermare che gli era ambizioso. Bruto è Bruto, voi lo sapete, è uomo d'onore. Io non vengo qui a smentire Bruto, ma soltanto a riferirvi quello che io so. Tutti voi amaste Cesare un tempo, non senza causa. Quale causa vi vieta oggi di piangerlo? Perché o se non fuggi dagli uomini per rifugiarti fra le belve Bruto? Perdonatemi, amici, il mio cuore giace con Cesare in questa bara. Devo aspettare che esso torni a me. Soltanto fino a ieri la parola di Cesare scuoteva il mondo, e ora giace qui, in questa bara, e non c'è un solo uomo che sia così miserabile da dovergli rispetto, signori. Signori, se io venissi qui per scuotere il vostro cuore, la vostra mente, per muovervi all'ira, alla sedizione, io farei torto a Bruto, torto a Cassio, uomini d'onore, come sapete. No, no, non farò loro un tal torto. Oh, preferirei farlo a me stesso, a questo morto, a voi, piuttosto che a uomini d'onore, quali essi sono. E tuttavia, io ho con me trovata nei suoi scaffali una pergamena con il sigillo di Cesare, il suo testamento. Ebbene, se il popolo conoscesse questo testamento, che io non posso farvi leggere, perdonatemi, il popolo si getterebbe sulle ferite di Cesare per baciarle, per intingere i drappi nel suo sacro sangue. No, no, amici, no, voi non siete pietra nel legno, ma uomini. Meglio per voi ignorare, ignorare che Cesare vi aveva fatti i suoi eredi, perché che cosa accadrebbe se voi lo sapeste? Dovrei, dovrei, dovrei dunque tradire gli uomini d'onore che hanno pugnalato Cesare? E allora qui, tutti intorno a questo morto. E se avete lacrime, preparatevi a versarle. Tutti voi conoscete questo mantello. Io ricordo la prima sera che Cesare lo indossò. Era una sera d'estate nella sua tenda, dopo la vittoria sui nervi. Ebbene, qui, ecco, qui si è aperta la strada e il pugnale di Cassio. Qui la rabbia di Casca, qui pugnalò Bruto, il bene amato. E quando Bruto estrasse il suo coltello maledetto, il sangue di Cesare lo inseguì, vedete? Si affacciò fin sull'uscio, come per sincerarsi che proprio lui, Bruto, avesse così brutalmente bussato alla sua porta. Bruto, l'angelo di Cesare! Fu allora che il potente cuore si spezzò e con il volto coperto dal mantello il grande Cesare cadde. Quale caduta con cittadini, tutti, io, voi, tutti cademmo in quel momento mentre sangue e tradimento fiorivano su di noi. che adesso piangete senza aver visto che le ferite del suo mantello... Guardate qui, Cesare stesso, lacerato dai traditori! No, no, amici, no! Dolci amici, buoni amici! No, non fate che sia io a sollevarvi in questa tempesta di ribellione! Uomini d'onore sono coloro che hanno lacerato Cesare! E io non sono l'oratore che è brutto, ma un uomo che amava il suo amico e che vi parla semplice e schietto di ciò che voi stessi vedete e che di per sé stesso parla le ferite, le ferite del dolce Cesare, povere bocche mute perché se io fossi brutto e brutto Antonio qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti e che ad ognuna delle ferite di Cesare donerebbe una lingua così eloquente da spingere fin le pietre di Roma a sollevarsi, a rivoltarsi! Grazie a tutti!